buongiorno a tutti abbiamo Luca D'Addazio di Panasonic Italia intanto ti ringrazio della tua visita e vedere questo 10 25 mm 1.7 vario Summilux cioè proprio è un obiettivo molto particolare allora montando purtroppo mi dispiace oggi abbiamo ordinato una Palasonic Micro 4T però l'ho montato sul M1X comunque montando su questa macchina sembra un obiettivo normale invece un obiettivo che ha una dimensione peso abbastanza importante ma soprattutto le caratteristiche quindi allora Luca questo obiettivo è stato creato per che cosa secondo te allora un'ottica indubbiamente molto importante sia perché comunque la costruzione è molto particolare sia perché ricopre diverse lunghezze focali abbiamo un 20 24 un 28 un 35 un 50 mm il tutto con un diaframma che si apre a 1.7 ah fisso quindi? fisso lungo tutta la focale quindi rimane sempre luminoso in qualsiasi diciamo punto di zoom certo è un'ottica pensata principalmente per il video perché anche il diaframma se lo vediamo la chiara del diaframma è molto morbida ma non c'è tacchetta non c'è tacchetta è molto morbida è divisa in terzi non è divisa in stop singoli e quindi è più orientata al video sicuramente come ottica ma è un'ottica che si presta molto bene anche in ambito fotografico perché in qualsiasi contesto dalla street alla urban a un ritratto con 50 mm abbiamo comunque una focale luminosa e che va da un grandangolare spinto a un zoom la standard diciamo mamma mia che che costruzione allora questo obiettivo viene costare mille attorno ai 2000 ma duemila euro duemila euro questo obiettivo tutto faccio vedere la messa a fuoco manuale si possiamo mettere automatico manuale semplicemente sdittando la ghiera e per far vedere il livello della costruzione è segnalata la distanza sia in metri che in piedi ok minima distanza di messa a fuoco quale 0 28 cm 28 cm su tutte le lunghezze focale anche sulla 25 mm a è molto morbida anche il messa fuoco quindi proprio che c'è l'ottica veramente comoda per chi usa un fuoco normale certo e quindi cioè fatta apposta del video cioè proprio esatto sì sono degli obiettivi impressionanti di qualità sia un livello sicuramente molto molto alto una probabilmente la miglior lente panasonic laica ma riuscita certo l'ultima nata ma probabilmente la migliore certo ma secondo te questo micro 4 terzi oggi ho parlato anche con il film maker e che diceva sì cioè per me full flame cioè video con full frame non ha molto senso perché se devo fare con film con full flame vado oltre mentre micro 4 terzi cioè è molto importante perché videoclip eccetera eccetera è sufficiente micro 4 terzi cioè questo era diciamo però lui era molto attirato della s1h perché s1h nonostante full flame andiamo a diciamo beccare e quella fascia di di alto livello di professionale si abbiamo al momento abbiamo in panasonic e il terremix abbiamo tre camere video fotocamere video gh5 gh5s nessuno h non esiste la fotocamera perfetta dovrei sempre trovare un compromesso che sia il peso che sia la tenuta iso dovuta sensore indubbiamente una scelta bisogna farla nessuna h è una macchina molto orientata al cinema si e prestazioni iso per comunque esatto diviso anche in due anche no c'è proprio è una cosa h s1h è una macchina secondo me è molto intelligente molto avanti come idea idea dell'utilizzo professionale si perché diciamo che senza star a parlare di caratteristiche della macchina il concetto è molto semplice mettere quella qualità video all'interno di una mirrorless vuol dire dare più portabilità maneggevole tra meno mangiabilità della macchina ma anche poterla montare sul stabilizzatore esterni i droni se tutti quegli accessori che magari sono più difficili da utilizzare con delle videocamere broadcast professionali quindi abbiamo una qualità cinema in un corpo mirrorless veramente compatto per le qualità che offre certo bene allora tornando 10 25 1.7 vario su milux è già il disponibile è già disponibile certo si è già disponibile bene allora noi non ne abbiamo ancora in questo negozio però chi desidera prenotare o chi desidera ordinare noi ci siamo perché panasonic è un mondo anche micro 4 terzi noi vogliamo spingere anche d'ora in avanti grazie panasonic italia grazie a duca della grande collaborazione ci vediamo molto presto il 23 novembre esattamente il 23 novembre ci vediamo qua nella nuova camera e parliamo della S.O.M.A.S. anche qualcosa di G e facciamo ovviamente provare tutto quello che c'è a disposizione grazie a senti voglio demo eh presto cioè qualche macchina in demo ok adesso andiamo a cercare ma è un bagagliaio qualcosa rimasto dai 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 mandaci grazie